Ecco, Emanuele è tuo, è tuo, Emanuele tira! Sei barcaio! Vai, gli vai un'altra volta, tira! Tira! Siete, siete, a rete Enrico Caporane! Il sesto gol, il sesto gol della gara! Vieni Enrico, bravo! Bravo Enrico! Sesta rete della gara! Campio! Ecco, Campio, il mister Gabriele fa esordire, non è l'esordio che è già entrato anche dalla gara precedente, esce Lorenzo Massimini, il coloniere numero uno, e entra il numero dodici, il baby degli esordienti, Daniel Ucci. No, ecco, ecco il nostro numero uno, ecco pure Alessio, c'è stato il cambio pure di Alessio. Bravo Alessio! Sesta viiti! Sesta viiti! Sesta viiti!